Rudy Zerbi si lancia in tenere e fusioni con una simpatica amica. E, felice di farlo con me, scrive l'artista sorridente più che mai. Ma sarà così? E, forse il professore più amato di Amici Rudy Zerbi, l'insegnante che nell'ultima edizione di Amici 20 ha portato in trionfo San Giovanni, puntando su di lui fin dal primo giorno di scuola. Ormai un veterano della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, Zerbi si sta godendo le meritate vacanze prima di ritornare dietro la cattedra per la nuova edizione del programma reduce dal record di ascolti nella fase del serale. Proprio durante la fase finale del programma ha dato letteralmente spettacolo in coppia con Alessandra Celentano, con punzecchiature continue con la sua collega Arisa che hanno infiammato gli spettatori ed i rispettivi fan. Su Instagram è una celebrità vera e propria. Sui social posta a ritmo continuo e sono oltre due i milioni di follower che può vantare. Nelle ultime immagini postate ha aggiornato i suoi fan sul viaggio a Disneyland Paris insieme a due dei suoi figli. Ma non mancano le immagini in cui si è mostrato accanto al suo ormai ex allievo, San Giovanni, e da Giulia Stabile, la vincitrice di Amici 20. Molto preparato in tema di musica, se per rivederlo dietro la scrivania ad Amici bisognerà aspettare qualche mese. Già a settembre lo potremo ammirare con tutta la sua verva. Tu sì che vales. Riconfermo insieme agli altri giudici. Nella trasmissione di Canale 5, accanto a Maria De Filippi e Gerry Scotti, ricopre sempre la parte del più severo tra i giudici, il più, polemico, forse cattivo. Nell'ultima immagine, Rudy Zerbi si lancia in tenere e fusioni con un'amica simpatica. Già, ma chi è? E, un cucciolo di boxer, una delle razze canine certamente più belle, appartenente ai molossoidi. Sorridente, Zerbi la stringe a sé, mentre il cane sembra decisamente impaurito. Dianne trasmissione di Canale 5, accanto a Maria De Filippi e Gerry Scotti, a Kaneale 5, accanto a Maria De Filippi e Gerry a Sousa. Grazie a tutti.